Il summit BRICS delle economie emergenti inizia in Sudafrica. Il presidente russo Vladimir Putin è oggetto di un mandato di arresto internazionale per presunti crimini di guerra in Ucraina e non parteciperà, con il ministro degli esteri Lavrov inviato al suo posto. I leader dei BRICS si incontrano in Sudafrica martedì 22 agosto, mentre questa associazione informale di importanti economie emergenti cerca di far valere la propria voce come controequilibrio al predominio occidentale negli affari globali. Le cosiddette nazioni BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, rappresentano un quarto dell'economia globale, e l'interesse a unirsi al club è cresciuto in vista del summit di tre giorni a Johannesburg. La sicurezza è stata rafforzata in tutta la città dove il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ospiterà il presidente cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente brasiliano Luis Shinacio Lula da Silva e altri 50 leader. Il presidente russo Vladimir Putin è oggetto di un mandato di arresto internazionale per presunti crimini di guerra in Ucraina e non parteciperà di persona, con il ministro degli esteri Sergey Lavrov inviato al suo posto. Rappresentando il 40% della popolazione mondiale su tre continenti, con economie a diversi livelli di crescita, i BRICS condividono il desiderio di un ordine globale che ritengono migliori rispecchiare i loro interessi e la loro crescente influenza. Il tema del loro quindicesimo summit è BRICS e Africa, e giunge mentre il continente si sta trasformando in un nuovo campo di battaglia diplomatico con gli Stati Uniti, la Russia e la che si contendono l'influenza economica e diplomatica. Alla vigilia del summit, Ramaphosa ha dichiarato che il suo paese non si lascerà coinvolgere in una lotta tra potenze globali e ha ribadito con forza la politica di non allineamento del Sudafrica. Spingeremo la comunità internazionale a concentrarsi sulle questioni di sviluppo, promuovere un maggiore ruolo del meccanismo di cooperazione dei BRICS nella governance globale e rendere la voce dei BRICS più forte, ha dichiarato undicesimo della Cina in un editoriale pubblicato sui media sudafricani lunedì. C'è un crescente interesse nel blocco, che è iniziato nel 2009 con quattro nazioni ma si è ampiato l'anno successivo con la giunta del Sudafrica. In vista di questo summit, almeno 40 paesi hanno espresso interesse a unirsi, tra cui Iran, Arabia Saudita, Bangladesh e Argentina, secondo gli ufficiali. Il Sudafrica presenterà ai leader dei BRICS una proposta per espandere la loro adesione e si prevede che una decisione verrà presa alla chiusura del summit. Tuttavia, gli analisti sono più cauti. La questione dell'espansione dei BRICS è divisiva, soprattutto tra i suoi due membri più potenti, Cina e India. La Cina è desiderosa di far crescere rapidamente il blocco e ampliare la sua influenza, ma gli osservatori ritengono che l'India sia cauta sulle intenzioni del suo rivale regionale. «Secondo me, una possibile ulteriore estensione verrà considerata nel corso di quest'anno e non sarà decisa al summit per dare più tempo», ha detto Gianni Rossu, professore di economia politica globale presso l'Università del Witwatersrand a Johannesburg. «I BRICS operano su consenso e questo rappresenta «un ostacolo importante» alla presa di decisioni», ha affermato Jackie Chiliers, fondatore dell'Istituto per gli Studi sulla Sicurezza ISS con sede a Pretoria. «Nel lungo termine, penso che la inevitabilità della rivalità Cina-India sia probabilmente la principale sfida con cui i BRICS si troveranno alla fine», ha detto AFP. Il capo dell'Agenzia Spaziale Russa si impegna a continuare la corsa verso la Luna nonostante il fallimento di Luna 25. Yuri Borisov, il capo di Roscosmos, l'Agenzia Spaziale Russa, ha espresso la sua determinazione affinché la Russia perseveri nella corsa verso la Luna nonostante il recente fallimento. In un'intervista televisiva, Borisov ha sottolineato l'importanza di non interrompere il programma lunare, definendo tale eventuale decisione-decisione come il peggiore esito possibile. Questa risolutezza arriva poco dopo l'annuncio da parte di Roscosmos riguardo al fallimento della missione Luna 25. La missione, progettata per segnalare il rinnovato ingresso indipendente di Mosca nell'esplorazione lunare, è stata ostacolata da sfide legate a difficoltà finanziarie, scandali di corruzione e dal crescente isolamento geopolitico dei partner occidentali. La sfortunata missione Luna 25 avrebbe dovuto ristabilire le capacità di esplorazione lunare della Russia, rimaste in gran parte inattive per quasi cinque decenni. Borisov ha affermato che la significativa interruzione di quasi 50 anni nel programma lunare russo è stato il principale fattore che ha contribuito al fallimento della missione. Ha deplorato la perdita dell'inestimabile esperienza accumulata dai predecessori negli anni 60 e 70, suggerendo che la discontinuità nel programma ha comportato uno spreco di tale competenza. Borisov ha fornito dettagli sulla causa del fallimento della missione, attribuendolo a un malfunzionamento del motore di manovra dell'astronave. Ha chiarito che il motore responsabile di avviare l'orbita preatterraggio dell'astronave ha operato per una durata di 127 secondi, superando il periodo pianificato di 84 secondi. Questa deviazione dalla traiettoria prevista è stata identificata come il fattore cruciale che ha portato alla sfortunata fine della missione. In risposta all'incidente, è stata istituita una commissione investigativa specializzata per approfondire le precise ragioni alla base del fallimento. L'ultimo atterraggio lunare riuscito della Russia risale al 1976 con la missione Luna-24. Successivamente, la Russia ha spostato il suo focus dall'esplorazione lunare, orientando i suoi sforzi verso le missioni su Venere e la costruzione della stazione spaziale Mir. La dichiarazione di Borisov sottolinea la determinazione della Russia nel superare gli ostacoli e rinnovare le sue ambizioni di esplorazione lunare. Nonostante le sfide, l'agenzia spaziale russa rimane salda nel suo impegno a contribuire alla comprensione dell'umanità della Luna e del più ampio cosmo. Star russa del pop-rock visita soldati nell'Ucraina occupata, cancella vecchi post-antiguerra. Il frontman di una popolare band di rock russa, che in passato aveva condannato la guerra in Ucraina, ha effettuato una sorprendente visita all'Ucraina orientale occupata per incontrare le truppe russe, come mostrato in un video pubblicato lunedì da blogger militari pro-guerra. Roman Bilik, il cui nome d'arte è Roma Zver, è il cantante principale del gruppo di successo Zveri. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, la band ha chiesto la fine delle ostilità sulla sua pagina Facebook, mentre Bilik ha personalmente condannato la guerra su Instagram. Entrambi i post sono stati successivamente cancellati. Un video condiviso lunedì dal canale Telegram Pro Guerra Uorgonzo mostra Bilik, indossando un casco e un zubbotto antiproiettile, osservare il fuoco di artiglieria russo, dopodiché il video passa al musicista che suona la chitarra per un'unità militare schierata nella regione di Danetsk, nell'Ucraina orientale. L'autore di Uorgonzo, Semyon Pegov, ha elogiato la performance di Bilik come «vero rock and roll» e ha lasciato intendere che i soldati sono disposti a perdonare il cantante per le sue passate dichiarazioni antiguerra. Diversi personaggi culturali russi di spicco che si oppongono pubblicamente all'invasione di Mosca in Ucraina hanno subito reazioni negative, tra cui cancellazioni di spettacoli. La performance prevista dei Zveri al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo SPF a giugno è stata annullata improvvisamente a seguito del reclamo di un funzionario riguardo alle osservazioni antiguerra di Bilik. Nato in Russia da padre ucraino, Bilik è cresciuto a Mariupol, che è stata conquistata dalle forze russe lo scorso maggio dopo un devastante assedio che ha lasciato la città in rovina. Bilik è almeno il secondo cantante russo a ritrattare le sue convinzioni antiguerra nell'ultimo anno, secondo il blogger russo esiliato Michael Naki. 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 Naki.